A Teramo, a distanza di poco più di un mese e mezzo dalle elezioni amministrative che hanno portato alla riconferma del sindaco Gian Guido Dalberto, cominciano ad emergere le prime tensioni. I primi ad essere delusi sono stati i componenti della lista in Nova Teramo, guidata dall'ex assessore Maurizio Verna, non candidato, che ha sostenuto Dalberto restando però fuori dal Consiglio Comunale per un solo voto. In particolare a non andar giù ad in Nova Teramo è stata, a loro dire, l'esclusione del complessivo progetto di Dalberto. Una interlocuzione minima si è stata con il sindaco e un livello di proposta appare a zero rispetto a quello che noi possiamo fare all'interno di questa amministrazione, che non deve essere per forza l'interno di aggiunta comunale, capiamo le dinamiche della creazione di aggiunta comunale, però ci ha proprio amareggiato, abbiamo definito figli e figliastri, pensiamo alle parole più consone della situazione di questo genere, perché proprio non aver proprio per niente posto all'attenzione quale potrebbe essere il ruolo e l'apporto di Nova Teramo all'interno di questa amministrazione che deve amministrare Teramo nei prossimi cinque anni. Per questo motivo il gruppo ha annunciato di volersi costituire in associazione per portare avanti i temi capisaldi della campagna elettorale. Ci occuperemo dei problemi di questa città, ce ne sono diversi, vogliamo dire la nostra, perché comunque stiamo in politica, ci saremo a modo nostro, ovviamente pensiamo di stare dentro una comunità, con le nostre idee, con le nostre proposte, che faremo man mano saranno poste all'attenzione della città. Infine va ricordato che fra il gruppo di Verna e i Cinque Stelle c'è stato un testa a testa e a spuntarla per un solo voto è stato proprio il Movimento, che oggi conta su un consigliere e un assessore. Questo dimostra che un solo voto di differenza fa tantissimo, cioè avere addirittura un consigliere e un assessore per un solo voto di differenza, secondo noi politicamente non è giusto, però nulla a questo sul fatto dell'assessorato agli amici di Cinque Stelle, ma almeno tenere in considerazione, ed è quella che non si è vista, la considerazione verso la nostra lista.